Francesco! Stefano! Stefano, finiscila! Leggi gli auguri per i nostri amici del dipendente dell'Argentina. Va bene. Questa è il 2017, e sta arrivando i nostri amici argentini. Un anno pieno di salute, prosperità e felicità. E' lo miglior, che il prossimo anno, io potrei venire a verte il tuo programma di television. Feliz anno! Adios! Mua! No, bendita! Bacchi argentina! Bacchi a bia! Bacchi a bia! Bacchi a bia!